Un po' di stupi di rischio Questa suona Covid secco, così No, no Covid bastardo, grazie Ecco Cosa fa il suono? Se dal veterinario in sala d'attesa c'è un uovo e una gallina Rivaldo proprio La mia ragazza mi ha detto sto vedendo un altro ora non so se mi sta tradendo o agli allucinazioni Va bene Va bene le penne Va bene Va bene le penne Va bene i libri È andato troppo lontano non riesci più a leggere Va bene le penne Va bene i libri Ma perché gli inglesi tengono i gatti sul tavolo? Queste cagate C'è davvero sicuramente premiglielo Grazie 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 Grazie